Buongiorno, oggi è venerdì 18 ottobre, sono le 9.46 e torniamo a parlare come tutti i giorni su questo canale, sul primo canale di analisi ciclica evoluta e analisi ciclica d'Italia con oltre 17.300 iscritti e oltre 3.500 video in cui si fa vedere se il metodo effettivamente funziona o meno e si può andare a controllare, di DAX e MIB. Oggi però iniziamo a ricordarci che siamo arrivati a delle resistenze in questo momento sia su DAX che su MIB, vediamo se ci sarà un po' di ritracciamento e poi ragioneremo di cosa fare per questa giornata. Attenzione perché oggi è giornata di scadenza e quindi potrebbe essere molto più rischioso del solito, attenzione perché le regole dicono di questo metodo che è meglio evitare di aprire un trade il venerdì pomeriggio se non è proprio eccezionale come possibilità di andare a target. E però facciamo un attimo una carrellata di che cosa ci aspetta oggi a livello di calendario economico e sorrido perché non c'è nessuna notizia a tre stelle. Dopo i tassi della BCE tagliati regolarmente dello 0.25 abbiamo avuto poi in realtà ben poco. Fortunatamente oggi quindi non verremo disturbati, questo è il movimento prodotto probabilmente dai tagli sul DAX e questo è su MIB quindi gioco a somma 0 come puoi vedere. Non ha cambiato quella che è l'idea principale che abbiamo relativamente a una prosecuzione della salita perché come segnalato nell'analisi del weekend e domani ti ricordo che tornerò a fare le live la mattina quindi se piacere basta iscriverti al canale se non l'ho ancora fatto. Jacopo Marini, analisi evoluta e parleremo di che cosa? Le live avverteranno domani a partire dalle 10.30 a 11 orientativamente come orario variano perché dipendono da tante cose e anche sabato mattina. Ok, parleremo soprattutto di S&P 500, ragioneremo se ci sarà qualche cosa da dire di Bitcoin, Ethereum e DAX. Mediamente appunto questo è un momento in cui vedersi nelle live, poter fare tutte le domande che desideri sul metodo, sulle situazioni anche di determinati altri commodity piuttosto che se c'è un minimo di tempo e se non andiamo troppo lunghi perché caspita l'ultima volta siamo andati un pochino lunghi effettivamente come durata del video. Cerco sempre di tenermi ma ci sono talmente tante cose che si possono vedere su un grafico che è meglio che non mi chiediate di passarci troppe ore perché se no poi diventa troppo lungo appunto il video. Per cui se hai piacere di fare quattro parole con me preparati domani live dalle ore 10.30 a 11 in avanti e per buona parte del pomeriggio cadenzate ovviamente dagli avvisi partiremo da S&P 500, successivamente probabilmente una crypto, Ethereum o Bitcoin e via di seguito. Ma adesso che cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo una discesa entro le 11 barre di inverso, siamo arrivati a 11, poi abbiamo fatto due candele rosse e grazie a queste due candele rosse siamo rimasti sotto il massimo assoluto che era questo per più di 48 barre e quindi che cosa abbiamo? L'ipotesi principale è quella di avere già un ciclo settimanale di inverso vincolato a farci salire. Perché per usare parole semplici che cosa può succedere da adesso in avanti? Può succedere che continueremo ad aggiornare i massimi dalle, anzi fino a almeno i prossimi 4 giorni perché ne abbiamo già consumati 1, 2, anzi in realtà i prossimi 3 giorni abbiamo fatto 1, 2, 3 giorni e minimo un ciclo settimanale ne dura 6 al massimo 11 per carità e tutte le durate in fra mezzo. Però il discorso è appena parte un nuovo ciclo, in questo caso non è semplicissimo perché qui ho messo T-3 ma potrebbe essere iniziato da qui ha fatto una finta di andarsi a vincolare e non si è vincolato per poco e poi ha ripreso a salire ma in ogni caso l'input quale può essere? Può essere quello che a parte quelle che possono essere le chiusure di inverso e ripartenze come quello di un metà ciclo giornaliero, partenza di un altro metà ciclo giornaliero eccetera noi andremo a valutare di andare long costantemente sui minimi, su DAX qui tra l'altro possiamo segnalare anche potenzialmente il nuovo ciclo settimanale ma ne parleremo poi nelle analisi del weekend come di consueto in cui facciamo appunto disegnandolo se possibile appunto il prossimo andamento e visto che nella stramaggioranza dei casi andiamo a target tra l'altro ci incantiamolo un po' perché a furia di passare giornate e giornate sui grafici facendo trading reale gli occhi rischiano di partire poi per quanto riguarda il MIB in questo caso anche qui il secondo ciclo giornaliero può essere terminato a 41 bar invece che qua ahimè sì, non abbiamo ancora una certezza al 100% di quello che è certo è che qui su MIB le cose sono un po' differenti qui è difficile che la centratura non sia questa, ad inverso primo ciclo giornaliero inverso seconda, 60 barre, un po' dura arrivarci può aver chiuso serenamente a 32 un po' più difficile che abbia fatto 29 più c'è il tempo per aver chiuso il terzo ciclo giornaliero inverso su questo massimo ok il discorso è quando si è in dubbio di ragionare grazie alle nuove tecniche che hanno permesso all'analisi ciclica evoluta appunto di far evolvere l'analisi tecnica l'analisi ciclica di Hurst e del Migliorino e quindi puoi andare serenamente sul sito analisievoluta.com e richiedere le guide gratuite, la guida gratuita per capire come funziona capire che cosa sono tutti questi tt-3, inverso, tutta questa roba che all'inizio sembra complessa ma che in realtà appena imparato un minimo di terminologia è molto semplice è appunto l'evoluzione dell'analisi tecnica e a quel punto capirai perché appunto nella maggior parte dei casi andiamo in gain e potrai controllare come di consueto anche ciò che viene segnalato negli appuntamenti di metà settimana con Money Moves di martedì sera piuttosto che andando su investimenti BNP Paribas e vedendo appunto House of Trading dove sono uno dei top 3 trader della trasmissione direi che questo è tutto quindi valutiamo di appena ci da un minimo di discesa di vedere se ci sono gli estremi per andare long attenzione, ripeto che oggi sono le scadenze seconda cosa è anche venerdì e nel pomeriggio dovremo evitare di fare trading per sicurezza ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro uno splendido fine settimana e tanto relax se hai deciso già di staccare oggi buona giornata